Chiudo con questa. Ciao grandissimo Fabio. Le ultime dello spogliatoio è che la squadra è tranquilla oggi, ma non l'è stata due mesi fa, perché pensavano che dovesse stare zang e tutti avevano paura di non prendere il grano. Ora sono tutti più tranquilli perché sanno che a fine anno non si sarà data, ma ci sarà la cessione della città agli arabi. Stanno lavorando per come impostare la cosa, per non far apparire il fondo piffo. Tramite altre banche e società di proprietà piffo. Questo è quello che sono, quello che so. Ora casualmente zang è sempre con la squadra per far vedere che le cose vanno bene e alzare ancora più il prezzo finché può. Antonio Conte Forever, voglio farmi sottomettere dal mister, gli consiglio richiami della mia azienda perché so che in primis farà il bene per l'azienda e ovviamente guadagnarà anche lui. E chi dice il contrario non capisce un cazzo di soldi di calcio di vita. Punto. Io ho risposto ti amo.